Buongiorno, sono Roberto Cusimano, responsabile di magazzino dell'Audi Zentrum Palermo Niccoloriolo. Ci troviamo presso il magazzino Ricambi, alle mie spalle il magazzino verticale che abbiamo installato circa due anni e mezzo fa. Abbiamo scelto di utilizzare il magazzino verticale perché l'azienda crede tanto nella tecnologia e quindi la proprietà ha deciso di scommettere con questo magazzino verticale, scommesse che secondo me e secondo noi tutti è stata vinta abbondantemente. Oltre all'utilizzo del magazzino per i ricambi, abbiamo anche installato in azienda un magazzino verticale all'interno dell'officina dove vengono custoditi gli attrezzi d'officina. Digitando il codice un puntatore ci farà vedere la posizione esatta dove si trova il ricambio e lo scaffale ce lo porterà praticamente davanti. L'installazione ci ha permesso di guadagnare sicuramente tanto spazio in magazzino, quindi ricambi puliti e ordinati. Grazie. Grazie. Grazie.